Eccomi qui! Allora, come vi dicevo nel video precedente, da adesso in avanti, almeno per un po' ci saranno solo video di creazioni. Allora, iniziamo con un ciondolo che ho, diciamo, terminato l'altro ieri. Ed è un ciondo con la nuova tecnica, con l'embrodery. Mi sta dando molta ispirazione appunto il giornale che vi ho mostrato. Questo, dove non cerco di ricopiare progetti che ci sono su, ma solo di ispirarmi e di, diciamo, prendere idee dalle creazioni che sono presenti appunto su questo giornalino qua. Allora, quello che ho fatto è questo. E' questo ciondolo, molto, molto, molto carino, almeno per me, sono alle prime armi con l'embrodery. Infatti, non voglio dire che sia preciso o sia perfetto. Però, aspettate che spengo la luce, ok, così forse va già meglio. Però mi ritengo soddisfatta. Allora, è un cabochon che appunto avevo acquistato dal negozio a Malnate, azzurro. Un cabochon appunto con tutte le venature sul bianco e l'ho prima di tutto incollato non su una di quei tessuti che ho preso dal negozio polacco finta Alcantara, ma ho voluto provare il feltro, un foglio di feltro che appunto avevo acquistato. Diciamo sì che con i fogli d'Alcantara, diciamo che si lavora meglio, secondo me, però non mi sono trovata neanche proprio malissimo con il feltro. Allora, adesso ve lo metto un po' più da vicino. Allora, cosa posso dirvi? L'ho incastonato appunto con, innanzitutto con delle togo da 11, la base, tutto intorno, per poi proseguire con un giro di delica da 11 e terminare con questi tipi di ondine con le togo da 15. Ho voluto sperimentare un po' di cose, ragazze, quindi perdonate soprattutto chi lavora spesso con le embroidery se c'è qualche imprecisione o così via. Poi ho voluto incastonare le perle in questa maniera, una più grande, una più piccola, una media, una piccola e quelle minuscole e così via, anche dall'altra parte, però mettendole al contrario, per poi decorare con swarovski, color turchese, se non ricordo male, e utilizzare le gocce piccoline, quelle tipo di gocce che avevo preso. Adesso vediamo se trovo come si la misura, perché io non sono mai preparata quando faccio i video, però non sono fatta così. Cosa vi devo dire? Allora, queste qui sono quelle che mi aveva regalato, diciamo, nel grosso ordine che avevo fatto da Bricola Art. E appunto sono... non mi ricordo più la misura, però vabbè, insomma, me le aveva regalate, non erano tantissime, e ne ho approfittato per utilizzarle in questa creazione. Per poi definire il tutto, diciamo, con un giro di togo da 15.0. Mi manca adesso da fare un laccetto per attaccarlo, penso ad una collana. Diciamo che come primo ciondolo, soprattutto dal vivo, perché poi le telecamere non è che rendono molto i colori, è veramente, veramente bello. E lo dico io, che ripeto, moltamente lo sapete già a memoria, non amo l'azzurro, o il blu, o questi colori in generale. Cioè io non mi metterei mai un ciondolo sull'azzurro. Per cui sicuramente lo regalerò, lo metterò nel mio prossimo mercatino, ecco, adesso vedo un attimo. E niente, tutto qua. Inizio a mostrarvi questo, e tra qualche giorno, appena saranno pronte due o tre cosette, vi farò un altro video. E niente, adesso io, come al solito, vi mando un bacio, ciao!